Quando arriva l'estate, oltre ad aumentare la temperatura, aumentano anche i furti in casa. Per i fortunati che si possono permettere una piccola vacanza o anche solo per chi vuole trascorrere un weekend fuori porta, una comoda soluzione per non lasciare la casa in balia dei topi d'appartamento c'è, un sistema di allarme centralizzato. Siamo andati in cerca di una ditta esperta nel settore e abbiamo incontrato Ronny Gregori, il titolare di GR Servizi Elettrici. In estate registriamo un aumento delle richieste degli impianti di antifurto, legati soprattutto al fatto che le persone vanno in ferie. Per andare in ferie tranquilli ovviamente bisogna avere un impianto sicuro. Qual è la richiesta più frequente da parte dei clienti? L'utente, il cliente vuole star tranquillo dentro casa, soprattutto mentre dorme, quindi viene sempre più richiesta una protezione ai bordi dell'abitazione, già dalle tapparelle o dalle persiane. Alcune volte vengono richieste proprio protezione all'esterno dell'abitazione, cioè che vedono l'eventuale ladro prima di arrivare all'abitazione. Quindi la sicurezza viene richiesta per quando l'utente sta in casa. Partendo dal presupposto che ogni tipo di impianto di allarme viene costruito apposta per ogni abitazione e quindi il prezzo dipende molto dal tipo di protezione che si desidera, ciò non significa che non ci si possa difendere efficacemente avendo un occhio di riguardo per il portafoglio. Per molti lavori che si svolgono all'interno della propria abitazione, l'impianto di allarme rientra in questa detrazione che lo Stato ci può offrire, per cui la spesa che noi effettuiamo, la metà della spesa, ci viene decurtata dalla tratteduta IPEF. in dieci anni però comunque un risparmio del 50% sulla spesa ce l'abbiamo.